Spari contro un'auto in seguimento in costiera, i carabinieri hanno arrestato il responsabile e un avvocato pugliese che avrebbe agito sotto effetto di droga e alcol. Negozi di Trieste nel mirino dei ladri, dopo l'episodio a Servola, doppio furto con spaccata in via Dante e via dell'Istria, tentativa a vuoto invece da footlocker. No alla colonizzazione dell'Italia, così il ministro dell'interno Matteo Salvini parlando dei rapporti con la Cina, a Telequattro, botta e risposta, sveglia Trieste tra Serracchiani e Roberti. Bando per la statua di Maria Teresa in piazza Punterosso, i voti di Triestini premiano il tallero con il volto dell'impratrice della Casa d'Asburgo. Medaglia a bronze alla carriera, il cantautore Umberto Lupi, definito dal sindaco ammasciatore della musica triestina, a breve uno spettacolo che ne ripercorrerà la carriera. Il Pordenone fa festa al Rocco, vince per 2-1 e sale a 10 punti di margine in testa al campionato, la Triestina non basta la reazione del secondo tempo e il gol di Costantino. Dalma largheggia con Pesaro e vola al settimo posto in classifica, 5 uomini in doppia cifra per dare massone il ritorno di un convincente Strautix. Buonasera e bentrovati, una nuova edizione del telegiornale di Telequattro. Chiarità, la dinamica ma non il movente dell'inquietante sparatoria di sabato all'alba contro un'auto in sosta. L'episodio si è svolto nel parcheggio della costa dei Barbari sulla strada costiera e si è concluso in campo Belvedere dopo un rocambolesco inseguimento. Arrestato un avvocato di origine pugliese, il servizio d'apertura di Laura Bucarella. E' stato arrestato e si trova nel carcere del Coroneo Giuseppe De Luca, 43enne, avvocato pugliese, che sabato all'alba ha crivellato di colpi di pistola a un'auto parcheggiata. All'interno della Opel, presa di mira, pare per scherzo e sotto l'effetto di alcol e droga, in quel momento dormiva un uomo originario dell'est Europa che miracolosamente è rimasto illeso. Il fatto non è accaduto in campo Belvedere, come è emerso inizialmente, ma nel parcheggio della costa dei Barbari lungo la costiera. Quando l'avvocato pugliese si è accorto che dentro il mezzo posteggiato c'era una persona è fuggito a bordo della sua auto, ma la vittima della sparatoria anziché chiamare subito le forze dell'ordine lo ha inseguito fino a Trieste. Dopo il rocambolesco inseguimento e una collisione tra le due auto, in campo Belvedere ci sarebbe stata anche una collutazione tra i due uomini, seguita dalla fuga di De Luca a piedi. Lo straniero a quel punto ha chiamato i carabinieri, che sono subito intervenuti con tre gazzelle e con descrizione e numero di targa hanno rintracciato subito l'avvocato, il quale era a casa e, come detto, avrebbe ammesso di aver sparato per gioco e sotto l'effetto di sostanze, convinto che nella Opel non ci fosse nessuno. L'uomo è difeso dall'avvocato Astrid Vida. La vicenda, inquietante, presenta ancora tanti elementi da chiarire. A cominciare dal movente, entrambi i protagonisti hanno dichiarato di non conoscersi, ma anche su questo particolare rimangono i dubbi degli inquirenti. E sempre su questa vicenda ancora alcune notizie emerse da poco. L'arma, utilizzata sabato notte dall'uomo, è stata trovata dai carabinieri sabato pomeriggio in un parcheggio del centro. È un revolver calibro .357 Magnum, sottoposto ora ad accertamenti balistici. Il reato contestato all'uomo è tentato omicidio. Giuseppe De Luca, sposato avvocato originario di San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, secondo quanto si è appreso, vive a Trieste da solo da alcuni mesi dove lavorerebbe in una struttura sanitaria. E passiamo oltre, un mezzo pesante che trasportava una ruspa è andato a fuoco mentre percorreva la corsia di marcia dell'autostrada A4 fra Porto Gruaro e La Tisana verso Trieste, dove sono attivi i cantieri della terza corsia. Il leso riferisce a Autovie Veneti il conducente. Il tratto è stato temporaneamente chiuso, ovviamente per i soccorsi del caso. Come vedete, l'incendio ha fatto grossi danni. Parliamo ora di ulteriori furti con spaccata nel centro di Trieste dopo l'episodio di Servola. Due andati a segno e un terzo invece a vuoto. Vetro martellato, incursione nel negozio, furto del fondo cassa, quindi la fuga. È successo nella notte a due esercizi commerciali di Trieste e a dire il vero, i tentativi di furto con spaccata sono stati almeno tre. Due andati a buon fine, uno a vuoto. Dopo l'episodio di Servola di qualche giorno fa, stanotte è toccato ad altri tre negozi. Il primo è un locale in pieno centro, in via Dante, il Peter's Tea House. Il secondo, un panificio in via dell'Istria. Il tentativo senza esito, per i ladri, il negozio di scarpe di Corso Italia Foot Locker. Per i colpi andati a segno, il bottino è stato magro, poiché dentro la cassa i ladri hanno trovato poche decine di euro. Qualcuno si è entrato in negozio, sfondando una parte della porta. E niente, mi hanno, sono portati via il cassetto della cassa. Uno si sente anche, vedi questa cosa, non sa neanche se entrare in negozio, se cosa troverai, perché non si sa mai. Però, beh, il fastidio adesso di ripristinare un po' tutto, chiaramente. Il vetro era già di per sé, mi hanno detto che era molto buono, però si vede che si sono accaniti. Su contromisure, beh, forse una serranda diversa, perché per adesso non la utilizzavamo, ma la ripristineremo. Poi c'è il tentativo andato a vuoto a pochi passi dal negozio di tè. Verosimilmente, gli stessi autori del furto di Via Dante hanno provato, o con delle martellate o con delle pietre, trovate vicino alla porta d'ingresso, a sfondare il vetro principale del negozio. Vetro che però è resistito agli urti, rimanendo intatto. Foot Locker è inoltre dotato di un impianto di videosorveglianza. Le immagini saranno visionate dalle forze dell'ordine dopo l'iter previsto per questo tipo di attività. Nella zona di Via Dante, nei pressi dell'esercizio commerciale colpito invece, non risulterebbero posizionate telecamere. Le indagini sono in corso per collegare gli episodi e ricostruire la sequenza di furti che si stanno verificando in questo periodo. E passiamo alla politica. Si parla di nuovo di interessi cinesi in Italia. Giancarlo Giorgetti ha spiegato che il memorandum Italia-Cina dovrà tutelare gli interessi strategici dell'Italia. E questa è la posizione di tutta la Lega, ha sottolineato il vicepremier Matteo Salvini. Se si tratta di aiutare le imprese italiane ad investire all'estero, siamo disponibili a ragionare con chiunque. Aggiunto, se si tratta di colonizzare l'Italia e le sue imprese da parte di potenze straniere, no. E il trattamento dei dati sensibili è interesse nazionale, quindi il discorso delle telecomunicazioni e del trattamento dei dati non può essere meramente economico. Poi Salvini ha ancora aggiunto, facciamo parte di un'alleanza che prevede la difesa dei dati sensibili e della sicurezza dei singoli, che deve prevalere sul mero interesse economico, ha detto ancora il vicepremier leghista. E di investimenti cinesi in Italia, in particolar modo nel porto di Trieste, si è parlato anche questa mattina a Sveglia Trieste. Ospiti, l'onorevole Deborah Sedacchiani e l'assessore regionale Pierpaolo Roberti. Non vi è una contrarietà da parte di entrambi, seppure con sfumature diverse, però invitano entrambi a porre delle garanzie sull'eventuale ingresso dei cinesi nel porto triestino. Sentiamo. Io oggettivamente ho lavorato con Zeno D'Agostino per questo, abbiamo fatto anche dei viaggi istituzionali, abbiamo lavorato per avere i primi approcci. Sono assolutamente convinta che sia non solo necessario, ma una grandissima opportunità. Ovviamente quello che mi sono permessa di dire è che dobbiamo trattare alla pari con la Cina. Non dobbiamo né svendere il porto né pensare che ci facciamo comprare per un piatto di lenticchie, anche perché fortunatamente per come sono fatti i porti italiani, che vivono appunto sulle concessioni e quindi non sulla proprietà, l'autorità portuale non è proprietaria del porto, ma ha in concessione il porto e può solo concederlo in questo modo. Noi non siamo nelle condizioni del Pireo, ad esempio, che è stato acquistato, però, ripeto, a condizioni di parità. Vogliamo che su questo territorio arrivino più investimenti possibili, dopodiché dobbiamo stare attenti, ma questo mi sembra abbastanza lineare, a come arrivano quegli investimenti. Nel senso che se ti arriva l'investimento dal privato, che ne so io, francese, tu sai che stiamo parlando di uno Stato democratico, dove valgono certe regole che sono comuni alle nostre, eccetera. Quando ti arriva un privato dalla Cina, bisogna capire con quali regole arriva, perché se le regole sono quelle di un turbocapitalismo quando conviene, e del comunismo quando conviene invece diversamente, quindi c'è il capitalismo più sfrenato, però c'è l'aiuto di Stato che qua non è permesso, allora a quel punto c'è un problema di competizione con le nostre aziende, con le nostre realtà. In tutta Italia, il giorno dei controlli sugli addempimenti vaccinali dei bambini che frequentano le scuole, in Friuli Venezia Giulia, tra i 0 e i 6 anni, i bambini non vaccinati sarebbero all'incirca 2000. A Trieste, a non essere in regola, sono tre bambini della scuola di infanzia del villaggio del Pescatore, la frazione del comune di Duina Orisina è al centro di una protesta da parte di alcune mamme della materna, sui cancelli dell'edificio, questa mattina c'erano dei cartelli di solidarietà per i bambini che sono rimasti esclusi. Parliamo ora dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della giustizia tributaria, il servizio di Bernardo Gulotta. Aumenta del 2,3% nel 2018 rispetto al 2017 il contenzioso tributario pendente in Friuli Venezia Giulia, una crescita imputabile in particolare al grado d'appello, più 15,75%, mentre le commissioni tributarie provinciali hanno avuto una riduzione delle controversie pendenti, meno 9% a causa soprattutto della carenza di organico del corpo giudicante, 12 giudici contro i 18 previsti. Lo ha affermato il presidente della commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, Paolo Alberto Amodio, durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario che si è stenuta questa mattina. Presente tra gli altri il presidente della Corte d'Appello di Trieste, Oliviero Drigani. Al 31 dicembre in Friuli Venezia Giulia risultano pendenti, tra primo grado e appello, 2.523 procedimenti contro i 2.466 dell'anno precedente, in aumento anche il numero dei ricorsi e degli appelli depositati, 1.923 contro i 1.619. Nel complesso, nel 2018, sono state definite 1.858 controversie, ovvero un più 4,55% rispetto al 2017, ed è leggermente aumentata la produttività media di ciascun giudice, 35,12 sentenze pro capite contro le 31,62 del 2017. Complessivamente, le udienze dell'anno scorso sono state 343, durante le quali sono state trattate 2.699 controversie. Il tallero di Maria Teresa è la statua che verrà realizzata in Piazza Ponte Rosso per onorare la memoria dell'imperatrice asburgica, questo quindi il monumento che ha vinto il concorso di idee. Sarai tallero raffigurante Maria Teresa a ornare Piazza Ponte Rosso nonché a omaggiare la memoria dell'imperatrice asburgica. È stato di fatti questo il verdetto della votazione popolare, con un'affluenza di 869 votanti, rimasti in coda per più di un'ora, sommata poi alla valutazione della commissione giudicatrice. Rispetto agli 869 voti validi, 8, 6, 9, hanno ricevuto ben 475. Facchini, Gerini e Poccai, questi tre giovani artisti vincitori del concorso che quasi per caso si sono messi in gioco. L'idea di partecipare è stata abbastanza casuale in realtà. Nicola ha trovato un'email di partecipazione al bando, che tra l'altro non era tra le email, era tra l'aspa. E niente, siamo fatti il coraggio, abbiamo creato questo gruppo e abbiamo partecipato. Il voto della commissione ci faceva ben sperare, però non ci aspettavamo una così tanta sentita affluenza, quindi approfitto anche a ringraziare tutti quelli che ieri hanno passato un'ora, un'ora e mezza in fila per questo qui. Per cui siamo estremamente felici. La cosa più interessante dal mio punto di vista che sono più manuali è proprio quella di andare a lavorare in fonderia, per cui avere questa parte qua. Ma io penso a parlare di nome di tutti, felicissimo di lavorare a Trieste, che è la nostra città dove abbiamo un laboratorio, dove abbiamo le radici. Per cui su questo siamo molto felici. Bene, proseguiamo il nostro telegiornale parlando del progetto Trieste Secolo IV, che propone una festa, una serie di iniziative per festeggiare i 300 anni del Porto Franco di Trieste. Il 18 marzo 2019 Trieste compie 300 anni. Nel 1719 la proclamazione del Porto Franco rappresentò il vero inizio del suo progresso urbanistico ed economico, culturale e scientifico. Con il progetto TS4 Trieste Secolo IV, l'associazione culturale Zeno intende celebrare la ricorrenza. Lunedì 18 marzo, ad Angar Teatri, in via Pecenco, si svolgerà una festa a partire dalle 20. Abbiamo deciso di celebrare questo evento in collaborazione con Angar Teatri, chiedendo a una serie di personalità attive nella vita sociale della città di portare alcuni regali, che in realtà sono più dei ricordi, degli oggetti che rappresentano il legame di queste persone con la loro città. Attraverso questi racconti, che si svolgeranno a partire dalle 8, appunto, di lunedì 18 marzo, qui ad Angar Teatri, verrà costruita di fatto uno spaccato della Trieste contemporanea, della Trieste di oggi. Trieste Secolo IV è un progetto che è nato, è partito da Zeno, e ha coinvolto però degli individui, cioè una serie di persone anche esterne all'associazione. È nato perché vogliamo pensare a Trieste non come siamo abituati a pensarla, cioè come una città vecchia, ma come una bambina che ha ancora tutto il futuro davanti e che può ancora decidere tutto quello che potrà essere. Un momento nel quale tramite un racconto collettivo e tramite alcune forme artistiche proveremo a raccontare la Trieste di oggi. Questo è il primo di una serie di regali che vorremmo fare alla nostra città. Vorremmo creare delle occasioni per una progettazione partecipata della città, creando tre gruppi di progettazione e fare tre regali alla città in luoghi chiave che verranno appunto definiti e pensati da questi gruppi. Il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, ha conferito oggi la medaglia bronzea del Comune a Umberto Lupi, cantante e autore triestino, che è stato definito ambasciatore nel mondo della musica triestina. Sentiamo. Tanta stima e amicizia, ti consegno la medaglia bronzea del Comune e ringraziandoti per quello che hai fatto per la nostra città. Grazie. Ha portato la musica triestina in tutto il mondo, ovvero il proprio ambasciatore, forte non solo della tradizione nostrana, ma di un vastissimo repertorio internazionale. Il cantautore Umberto Lupi è stato insignito della medaglia bronzea del Comune in una cerimonia nel Salotto Azzurro e il sindaco di piazza, ripercorrendo insieme a Lupi la sua lunga carriera ricca di successi, gli ha strappato la promessa di uno spettacolo in piazza da realizzare a breve proprio sulle principali tappe del suo percorso artistico. Vuole fare un concerto in piazza dove io mi esibirò nei vari repertori internazionali da quando ho cominciato, per finire poi appunto con il repertorio dialettale e anche un, perché no, una parentese di canzoni napoletane che è dove nella mia tournée a Ischia che è durata quattro anni e sono arrivato a Ischia che conoscevo sei, otto canzoni napoletane e oggi posso cantare quattro, cinque ore di canzoni napoletane dal Settecento a oggi. Un'iniziativa, quella della medaglia Lupi, nata da una segnalazione di Claudio Visintin, grande ammiratore del cantautore, è raccolta dal consigliere comunale Rescigno che ha avviato l'iter in consiglio comunale. Poi la segnalazione è stata raccolta dal consigliere Vincenzio Rescigno e tutti i consiglieri danno votata all'unanimità per cui, diciamo, il sindaco ha ritenuto cosa buona e giusta dare questo riconoscimento a una persona di valore. L'emozione è ovvio che ci sia, è un riconoscimento più che ben accettato e onorato e ringrazio ovviamente i promotori. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato per farmi avere questo riconoscimento. Grazie. Ben trovati con il nostro telegiornale, siamo alla pagina sportiva, il Pordenone ha battuto a Rocco ieri sera la Triestina per 2-1 e vola così a 10 punti di margine in classifica. Di fatto ha già vinto il campionato. Per quanto riguarda la Triestina non è bastata la reazione della ripresa e il bel gol di Rocco Costantino. Il Pordenone celebra a Rocco una vittoria che ha tutto il sapore di una promozione anticipata. I 10 punti di margine sull'antagonista triestina suonano già come una sentenza. L'Unione invece mastica amaro. Raggelata due volte dagli episodi, il gol subito dopo tre minuti e il rigore parato a Granocce è stata comunque capace di riaprire il derby. Solo però con il miraggio di un pari svanito dopo una ripresa all'arrembaggio. In effetti è durato poco il gusto dolce della cornice delle grandi occasioni, di quella curva da Serie A, di quell'atmosfera che non si viveva da una decina d'anni almeno. Sono bastati meno di tre giri di lancette per vedere Candellone festeggiare l'1-0 sotto il catino della Furlan. Una rete da killer che costringe la squadra di Pavanel ad innestare Rampichino per tentare la rimonta. I rossolabardati però pagano lo scotto della tensione con diversi palloni persi nei primi minuti di gioco. Poi finalmente l'Unione fa capolino in attacco su due corner consecutivi. Al settimo è Coletti ad incornare di testa. Al trentanovesimo procaccia un buon pallone sui piedi ma la conclusione non è pericolosa. Il Pordenone mostra trame di gioco migliori soprattutto a centrocampo recuperando palloni e mostrando grande sicurezza. Al quarantaquattresimo raddoppio Frascatore sbaglia l'anticipo su Semenzato che si trova tu per tu con l'Ambrughi. Il capitano non riesce a sfilargli il pallone e commette fallo. Burrai dal dischetto è preciso 2-0. Prima del Teccaldo c'è ancora tempo per un colpo di testa di Malomo fuori misura e per il contestatissimo episodio su Procaccio. Sulle prime pare effettivamente rigore ma Iroldi non ha dubbi e ammonisce l'attaccante. La Moviola sembra effettivamente dare ragione all'arbitro. La voglia di ribaltare il risultato è evidente nella ripresa e il neoentrato Costantino procura subito la giusta occasione. La trattenuta in area è palese rigore sacrosanto. Granocce però infallibile si inquida il dischetto trova in Bindi la sua bestia nera. L'estremo difensore che pare non abbia mai parato un rigore fa il fenomeno. L'Unione prosegue in attacco a testa bassa. Prima Costantino e poi Procaccio impensieriscono la difesa di Tesser. Entrano Idaigo e Steffè. Il Pordenone in ripartenza si fa rivedere in attacco ma Offredi c'è. I ragazzi di Pavanel mettono cuore d'anima davanti il 7500 del Rocco e alla mezz'ora arriva la rete. Il neoentrato Steffè procura un gran pallone a Costantino che di collo pieno infila il portiere sul primo palo. Sta filata nel 7 e pubblico che si riaccende. I 20 minuti seguenti sono una crociata verso la porta della capolista. Procaccio è quello che va più vicino al gol ma davvero tutti ci mettono le budella non solo l'anima per provare a pareggiare la sfida. Il Pordenone se la vede brutta resiste fa melina e trova ancora un Bindi in grande giornata. Gli applausi però vanno pure all'unione e in quel noi ci crediamo della curva c'è tutta la prospettiva di un campionato in cui bisogna ancora conquistare il secondo posto per poi provare a superarsi nei play-off. E questa sera ovviamente torna il Caffè dello Sport ore 21 il capitano della Triestina Lambrughi e tanti ospiti per commentare insieme l'esito del big match. Andiamo ora in sala stampa dello Stadio Rocco per sentire i protagonisti Mauro Milanese il presidente del Pordenone i due allenatori anche l'autore del gol per quanto riguarda la Triestina Rocco Costantino di fare il complimento a Pordenone che ha vinto il campionato perché ormai il risultato nostro fra il Pissarò insomma è ovvio che l'hanno vinto per noi non lo pescare ma anziani non lo dirà mai ma insomma questa è la verità quindi facciamo il complimento a Pordenone per una scocciata che tanti anni fa la C ad alto livello probabilmente si meritava già ai tempi di Parma ad andare su non l'hanno fatta da lì è stato comunque sempre un migliorarsi quest'anno hanno colto l'obiettivo noi dobbiamo comunque come società migliorare tanto e imparare anche da loro e per essere onesti come sono sempre devo dire che la testina mi ha impressionato soprattutto gioca molto bene sugli esterni secondo tempo io credo di averlo mai vista così con quella intensità come secondo tempo quindi la vittoria ha ancora più valore e poi ce n'è una in meno e dico sempre ogni partita poi che passa il traguardo si avvicina sempre di più il campionato è ancora lungo 8 partite 24 punti meglio averne 10 in più che 10 in meno però la strada non è sicuramente ancora chiusa penso che un primo tempo chiuso meritatamente in vantaggio la ripresa c'è stata una bella reazione della triestina ci ha messo lì sulla difensiva bravura di Bindi a parare ricordo a Pablo perché allora sarebbe stato forse un po' più duro più complicato poi gestire tutto il secondo tempo lì in difesa per merito loro non è bastata nel secondo tempo sicuramente avremmo meritato di di riaquantarla insomma quello sì ma il primo tempo ci sono stati dei contrasti persti in mezzo al campo che non mi sono piaciuti quando tu affronti partite così determinanti così importanti i 50-50 non li devi perdere loro sono dimostrati squadra solida da quel lato lì hanno capitalizzato la prima incertezza nostra che ha messo poi su un piano psicologico da subito la gara noi abbiamo fatto poi degli errori perché chiaramente la situazione psicologica si ribalta e il primo tempo è filato via così in questo periodo ho sofferto tanto stando fuori vedendo i miei compagni giocare rientrare in una partita così importante fare gol però perderla è un po' un contrasto dentro di me e passiamo ora al basket con l'esito della sfida di sabato all'Allianz Dome in cui l'Alma ha letteralmente dominato contro la VL Pesaro di Matteo Boniccioli e vola ora il settimo posto in classifica all'Alma è bastato un quarto il secondo per archiviare la pratica Pesaro e largheggiare poi senza sforzo apparente sino al più 37 finale una dimostrazione di forza e al tempo stesso un sol conetto scavato rispetto alle formazioni che navigano nei bassi fondi della classifica ora i biancorossi possono guardare con ottimismo e fiducia alle ultime nove gare di campionato contando di poter regalare ancora qualche sorpresa ai tifosi in attesa di nuovi acuti va registrata non solo l'ennesima prova con cinque uomini in doppia cifra ma pure il ritorno di uno Stroutins che con questa sfrontatezza non si vedeva da inizio campionato è stato proprio il giovane Lettone insieme a maestro Peric a smuovere il match nella seconda frazione uno slancio preso dopo dieci minuti iniziali contrassegnati da un po' di ruggine tanto da consentire agli ospiti di toccare il 13 a 21 sull'onda del talento di McCree e Blackmon dalla tripla di Cavalieri in poi Trieste ha srotolato sul parquet un parziale di 16 a 0 indirizzando il match con soluzioni di squadra e una difesa attenta in cui pure Daros si è fatto notare per efficacia nella ripresa Knox e Murray si fanno notare sui due fronti opposti ma i veri protagonisti sono Dragic e Fernandez che si passano il testimone dal leader offensivo con straordinaria efficacia lo sloveno segna subisce falli in penetrazione e illumina per i compagni l'italo-argentino sfodera una prova chirurgica 18 punti in 20 minuti 6 su 7 dalla lunga distanza e 4 assist le cifre alle volte dicono davvero tutto l'alma chiude già in gloria al trentesimo con la schiacciata di Mosley ed un punteggio che assume contorni già imbarazzanti sul 75 a 49 l'ultimo quarto diventa pura accademia e se ne rende conto pure Matteo Boniccioli Peric e Dragic regalano spettacolo all'Allianz Dom Fernandez completa la sua partita perfetta eppure i panchinari più o meno di lusso completano l'opera canestro dopo canestro il punto esclamativo in schiacciata lo mette Cittadini il tabellone recita 105 a 68 e si vola al settimo posto in classifica e per quanto riguarda il nostro telegiornale è tutto buon proseguimento con i programmi di Telequattro e per quanto riguarda